Musica Andiamo oggi in prova con questo gommone da 4,70 m Un volgato per portare 8 persone e particolarmente indicato per lo sport E ora vi spiego il perché Grazie alla console Rescue, quindi con la seduta a mo' di sella di motocicletta E' possibile stare seduti uno fronte all'altro, come se fossimo su una moto d'acqua Questo tipo di struttura è utilizzato moltissimo dalle scuole di vela Per assistere appunto i loro allievi nelle lezioni, windsurf, kitesurf Ma anche per gli sportivi, come i pescatori subacquei Infatti salire e scendere dal tubulare è molto comodo E si può guidare centralmente con qualsiasi tipo di distribuzione di peso Grazie a questo 40 cavalli Honda a iniezione del 2011 Otteniamo delle ottime performance Che tra poco andremo a provare in acqua Ottima qualità e ottima manufattura anche per i tubulari Che sono nuovissimi e neoprene Ora affondiamo il gas e buttiamo il battello in pranata Sul battello è installata un'elica di passo ridotto Questo permette di raggiungere la punta massima di velocità di 24 nodi Ma il grande vantaggio è quello di riuscire a rimanere in pranata a 11-12 nodi Grazie a tutti i nostri spettatori Grazie a tutti i nostri spettatori